La tecnologia è fondamentale in questo momento perché ci permette di avere un sopporto molto importante per il lavoro, però è chiaro che il ruolo del ricercatore alla pari è altrettanto importante proprio per il suo background di conoscenze, per le reti che riesce a costruire. Così come è importante il nostro lavoro di squadra che permette a ognuno di noi con le sue specificità di creare un gruppo che sia funzionale.